Il viaggio di conterranea nelle terre dell'olio d'op di Cartoceto ha consumato nel weekend la seconda delle sue tre tappe nei giardini di Palazzo Guidovaldo del Monte a Monbaroccio in un appuntamento fra scienza, territorio e fede, contrassegnata dalla concomitanza con l'ottocentesimo anniversario del Beato Sante. Un viaggio su più livelli con un menù curato dagli chef Sergio Zebele e Anna Elisa Dell'Onte del ristorante Piccolo Mondo, il tutto accompagnato dallo spettacolo musicale Echi di fede e ragione partendo da Battiato e dal talk tenuto dal filosofo Paolo Ercolani. Il percorso di conterranea si concluderà poi il 29 luglio a Cartoceto in Piazza Marconi, terrazza antistante il Teatro del Trionfo. Proprio al teatro un tempo frantoio deposito di olive e oggi luogo d'arte di spettacolo nonché prossimo polo di innovazione artistica sarà tributata l'intera serata. Sarà la chef Eva Maria Valk dell'Osteria del Cardinale con la collaborazione del gastronomo e sommelier Hotel Lorenzi ad articolare portata dopo portata il percorso enogastronomico. Durante la serata lo spettacolo musicale inedito sulle note della storia italiana a partire da Teatro 10. Ad approfondire il percorso il talk con il direttore di Amat Gilberto Santini.